E' pronto, chi è? Ma ci sta Maria in questo appartamento? Sì, chi è? No, starei facendo troppo casino, noi qui non usciamo, siamo faticati, noi ci dobbiamo svegliare. Scusi? Ci dobbiamo svegliare, noi dobbiamo avere troppo casino. Ma chi è? Ma chi vuole, scusi? Allora, vuoi tenere la musica alta? No, guardi, ha proprio sbagliato. Ha sbagliato quello che era facendo, c'è un'interno di musica qui. Sì, se sento musica è da... Ma scusi, ma lei dove abita? Io abito vicino a voi. Cioè? E' pi*****a lei, io abito lì. Eh sì, ma noi non abbiamo... No, allora sento dalla casa bruci che si accendono, si spengono casino, gente che entra e scende che esce. E' dall'ora che ci siamo svegliati, noi dobbiamo svegliare. Sì, ma guardi, non siamo noi, cioè... Ma allora io sto vedendo, siete voi. Dite sempre così, ogni volta che chiamo, no, non siamo noi e poi... No, perché ha già chiamato tre volte, allora non ha chiamato noi, perché non... Stai dicendo bugie, eh? Bugie. Comun, bassa... Allora, io ve lo dico, volete dire bugie? Io, gentilmente, abbassate la musica, ballate piano. Io pure sono stato giovine, ho ballato i miei tempi. Bassa voce, bassa musica, ballate, però comunque... Hai capito? Hai capito? Perché sinceramente avete cagato di p***o. Però ho detto con il cuore, non è che lo dico con odio. Siete giovani, divertitevi, però abbassate questo volume. Non se ne può più. Va bene? Va bene? No, no, allora, io vi dico, allora, è la luna, luna e tre, mi pare. Cominci a sentire buzze, buzze, tutti i luoghi, a destra e a sinistra. Sveglio, vado alla finestra, vado all'apparello, vado qui, eh? Ah, i soldi, cacchi puoi essere, la famiglia di c***o, ormai, lo sai, ormai. Allora io ho detto, mo, vediamo, facevamo passare un po' almeno forse ci metteranno, manco pa' a capo, sai? Allora, mo, ho chiamato, ho detto, ora chiamo, piazza e piazza. Non è uno scherzo, eh? Lei sta scherzando? Allora, assolutamente no, non sto scherzando, lei logicamente ora mi vuole prendere per i fondelli, ovviamente. Però, io vi dico, con parsimoni abballati, abbassate la musica, io vi voglio far divertire, però poi, eh, prendo misure drastiche, vengo di là, mi ammazzo tutti. Va bene? Va bene. Questo è un piccolo avvertimento che vi do. Vi ammazzo di mazzate, ma proprio ammazzate in fascia, proprio a stile vecchio e antico, come facevano con noi. Va bene? Lei come si chiama? Scusi, lei chi ha chiamato? Io ho chiamato P*** Maria. Eh, è stata P*** Maria, evidentemente. Allora, comunque, se mi vuole prendere i fondelli, già me lo stai... Ma guardi, io non so che dirlo, a me sembra che lei scherzi, perché se sta dicendo sul serio, non siamo noi che abbiamo la musica. Allora, ma per ogni volta che chiamiamo il cesso, non siamo noi, non siamo noi, non siamo attacco del telefono, la musica a palla. Ma avete studiato, e da quanta giorni... Ha squillato il telefono, ha studiato il telefono? Io ho sentito, bello. Io ho sentito, ha squillato, ha chiamato il marito, ha chiamato, ha chiamato, ha chiamato, ha chiamato. Ehi, infatti, infatti. Ma, gentilmente, appena attacchiamo, gentilmente, abbassate questa c***a musica. Va bene? Certamente. Credo che sono stata abbastanza chiara. Ecco. Allora, buonanotte, perché a me è stata già intussecata troppo la notte. Buonanotte. Buonanotte.